ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale oggi torna l'appuntamento annuale con quella che potremmo definire un resoconto fumettoso delle migliori letture vi chiederete perché non fare le peggiori letture perché si potrebbe anche fare in effetti oggi parliamo invece delle migliori letture dal mio punto di vista ovviamente perché ben sapete che l'arte non è mai oggettiva è quasi sempre soggettiva e quindi quando si stilano queste classifiche che siano fumetti libri di film di musica o di qualsiasi altro genere va da sé che le emotività le sensazioni personali e le letture intime prendono il sopravvento quindi ahimè è soggettiva però la condivido con voi perché mi piace condividere le letture che ho fatto e perché appunto chi mi segue magari potrà trarne qualche consiglio qualche piacere qualche qualcosa di nuovo magari da leggere per comodità di visione suddividerò il video in capitoli ovvero migliori graphic novel migliori serie o comunque albi di una serie praticamente bonellide o comunque italiana riedizioni e libri ovvero saggi sul fumetto tutti questi che vi farò vedere sono editati nel 2023 non andrò a parlare dei fumetti letti nel 2023 che mi sono piaciuti sono tantissimi ma solo quelli usciti e che mi sono appunto piaciuti nel 2023 quindi precisiamo che io vi faccio vedere le mie letture preferite ma oltre queste ce ne sono tante altre che ahimè per forza di cose non posso mettere non perché non mi siano proprio piaciute ma perché altrimenti parleremmo due ore e magari nessuno poi guarderebbe neanche il video quindi vi faccio una selezione delle mie preferite basta sigla e poi partiamo allora iniziamo iniziamo da cosa ho tutto qui ho tutto qui iniziamo dai graphic novel ok ok allora tra le tante 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 cose che ho letto ne ho selezionate quattro perché sono quelle che ritengo più importanti per me in questo 2023 partiamo da dall'ultima che ho letto in ordine però è che è tra quelle poi che mi è piaciuta anche di più e prima di continuare ogni ogni fumetto che vi farò vedere è solo fugacemente dirò qualcosa perché poi nel dettaglio di questi fumetti ci ho fatto anche delle video recensioni o comunque ne ho parlato in singoli video di alcuni di essi vi metto le schede qui sopra così le potete trovare se vi va di alcuni autori ho fatto anche le interviste e ora vi faccio vedere giusto le copertine dirò qualcosa maya de ren edito da male edizioni un fumetto di stefano alghisi e marco madoglio maya de ren la vergine dell'esistenza se amate il fumetto il graphic novel e il cinema soprattutto allora quest'opera deve essere vostra perché merita molto i disegni sono molto belli molto marcati incisivi quasi xilografici maya de ren è stata una grande regista sperimentale non narrativa parlerei di maya de ren tre ore di fila però meglio evitare che vi consiglio anche di scoprire da un punto di vista cinematografico perché merita merita nonché grande allieva amica di marcel du champ in quel periodo americano statunitense degli anni 50 ma tanta roba il fumetto è ben fatto e racconta la storia di questa grande donna da questa grande filmmaker fortezza volante grande opera grande opera in questo 2023 fortezza volante è stata una bella scoperta perché da un punto di vista anche grafico è molto bella molto bella miguel villa ha fatto un grande lavoro qui di lorenzo palloni appunto è miguel villa edito da minimum fax recuperate recuperatelo poi sempre minimum fax che quest'anno ha dato grandi opere abbiamo faida in dialetto calabrese feida e di tommaso renzoni e raffaele sorrentino bellissima opera ambientata in calabria nel paesino di san luca famoso per la per le sue vicissitudini dranghetiste mafiose anche se nel fumetto il paese si chiama san michele questa cosa mi è piaciuta di meno però va bene posso capire anche delle scelte o comunque ci sta va bene e di questo ci ho fatto anche un video magari andatelo a recuperare bella opera bella opera graficamente molto molto bella i testi di renzoni anche sono interessanti e racconta la storia di questa faida tra le due famiglie storiche di san luca che ora mi sfuggono anche i nomi ma nel video lo recuperate bello e poi la mia diciamo preferita di questo 2023 come graphic novel è una anche perché è un esordio nel mondo del fumetto e quindi io voglio donare a questa autrice la la bellezza nel mio piccolo ovviamente di darle questa piccola come dire classifica di omaggiarla in questo modo perché è un fumetto che merita mi è piaciuto moltissimo è ben scritto e ed essendo anche essa molto giovane è un fumetto molto molto maturo quindi ragazzi e ragazze eccolo qua il racconto della roccia di benedì edito da coconino press fandango un grande esordio veramente molto bello un fumetto anche molto corposo e con questa china monocromatica tendente al marroncino quindi non classico bianco nero e bello ciccioso recuperatelo leggetelo e vedete anche l'intervista che ho fatto con benedì perché vi delucida su alcune situazioni che nel fumetto lei ci racconta quindi miglior graphic novel dal mio punto di vista appunto è il racconto della roccia di questa grande e giovane autrice passiamo alle serie agli albi delle serie bonelli de ma non solo italiane allora per quanto riguarda i bonelli io ho due storie che mi sono molto piaciute che sono entrambe di dylan dog la prima è la città senza nome scritto da gabriella conto è disegnato fatemi vedere che non mi ricordo da giorgio santucci perdonatevi non mi ricordo tutto questo album mi è piaciuto moltissimo tanto che per me rientra in quei migliori in questi migliori del 2023 quindi se l'avete letto sicuramente sapete il perché a qualcuno sicuramente non piacerà però vi dicevo è una classifica soggettiva anche su gabriella conto ci ha fatto un'intervista che proprio in cui proprio in cui parliamo di questo numero che secondo me merita molto e poi il color fest numero 44 ovvero il verme bianco il fumetto scritto e disegnato dal fumettista marco galli che ai più ai più addetti al mondo delle graphic novel marco galli un nome sicuramente conosciuto facente parte anche di quel progetto molto bello ideato portato avanti da a cab che è appunto oddio mi sfugge vabbè ve lo scrivo qui perché ora mi sfugge mi sfugge mi sfugge perdonatemi comunque e il verme bianco è un fumetto molto bello perché mi ha ricordato delle storie di dylan del passato e perché c'è un forte richiamo anche cinematografico a delle storie degli anni 80 che io apprezzo moltissimo non solo per questo per tutta la struttura anche narrativa e grafica che marco galli riesce a mettere su su un fumetto che solitamente non è di sua mano no lui scrive tutt'altro quindi tanta roba tanto tanto bello e poi sempre restando invece non è bonelli ma al formato bonellide passiamo alla bugs comics che quest'anno mi ha preso vabbè io seguo anche samuel stan però il numero che mi è piaciuto di più quest'anno è sicuramente questo samael che è il numero 46 scritto da massimigliano filadoro marco savegnago e gianmarco fumasoli e i disegni di antonello catalano questo è il numero che va ad aprire la la run sull'apocalisse di samuel stern che ci porterà per 12 numeri all'interno della serie regolare ma questo numero è stato veramente sconvolgente per chi ovviamente segue samuel stern altrimenti chi non lo segue non può saperlo però è un numero molto importante con tanto di copertina strafiga quindi bello un altro prodotto bugs comics che rientra nell'universo di samuel stern ma che non è parte della serie regolare bensì è uno spin off ovvero questo che si chiama singularity singularity dal titolo appunto tentacoli con questo numero uno che potrebbe essere l'unico numero uno o che potrebbe continuare ancora non lo sappiamo però un volume bello ciccioso anche questo che va a impreziosire l'universo di samuel stern con l'approfondimento appunto sull'agenzia singularity e il modo in cui viene raccontata viene disegnata anche qui c'è un forte rimando al cinema nello specifico alle serie tv ai telefilm degli anni 90 fini anni 80 prettamente che ha un forte appunto richiamo iconografico però merita ultimo della serie delle serie italiane che seguo e che mi hanno fatto piacere leggere quest'anno è il numero è il numero 440 di lupastro di lupo alberto un numero estivo molto molto bello mi è piaciuto particolarmente è all'interno di questo numero c'è anche tutto un altro lupo numero 10 questo qui con un numero molto sperimentale anche esso molto bello se vi va di scoprirlo nel dettaglio andate a vedere il video su su questo numero e tanta roba lupo alberto ancora vive anzi devo rinnovare l'abbonamento perché mi è scaduto per il prossimo anno sono 25 euro sono sei numeri non è poco non è tanto però merita di essere letto perché almeno alcuni numeri sono veramente ancora ben sopra le righe ora passiamo alle riedizioni di vecchi fumetti fatti nel 2023 io ho selezionato tre tra le tante che ho preso quest'anno alcune le porto avanti alcune le ho stoppate però partiamo dall'ultimo dal numero 3 dal numero 3 non a tutti magari fa impazzire però abbiamo che è uscita anche di recente oltretutto billy bis billy bis in questa riedizione della gazzetta dello sport che porta in auge le vecchie storie di questo personaggio italiano creato da oddio da anthony mancuso e graficamente da loredano ugolini perché perché merita al di là appunto della scelta colori perché le chine di ugolini in bianco e nero sono strepitose ridare vita un personaggio quasi sconosciuto quantomeno alle generazioni nuove potrebbe essere un punto a favore il formato non è male quello classico della gazzetta dello sport e i colori alla fine danno quel tocco di contemporaneo anche se le storie sono molto datate quindi ambientate pertamente negli anni 70 80 è meritevole è divertente e da intrepido ad oggi ha fatto tanta strada però come riedizione la metto al terzo posto giusto perché è bello dar vita ridar vita anche personaggi magari quasi dimenticati numero 2 composta da quattro numeri cronache del tempo medio in questo caso rieditata da lancio storie in questa versione di lancio storie maxi di balk balk arce e zanotto anche questa colorata e colori un po particolari un po sbiaditi un po come dire così eterei che ci possono anche stare perché parliamo di un'ambientazione quasi steampunk quasi post apocalittica e ci sta non male io mi sono divertito a leggere perché non conoscevo la versione c'è non conoscevo scusate non ho le edizioni originali e quindi quando ci sono delle ristampe interessanti di fumetti belli le prendo perché mi piace averle e leggerle perché essendo nato un'epoca più avanti rispetto a quando sono uscito ovviamente e non ne ho e difficilmente vado a recuperare a recuperare gli originali perché molte volte costano un pochettino quindi questa è un'altra riedizione molto bella e poi la mia preferita del 2023 perché è veramente ben fatta e mi sto divertendo a seguirla e a leggerla ovviamente fin dall'inizio tant'è che del numero 1 preso sia la versione regular sia la variant ed è questo gli enigmi di martin mister della if edizioni con doppia copertina per ogni albo e questa è una ridizione ragazzi con tanto di cappello chapeau alla if edizioni perché cura bene molto bene questa ristampa di martin mister lo fa con degli approfondimenti molto belli con dei redazionali profondi e originali la cura anche nei dettagli particolari e quindi vince vi faccio vedere anche la variant che finora non l'avevo fatta mai vedere in video è questa molto bella con tanto di copertina con le alette bella grande oltretutto castelli scrive tantissimo in questi redazionali e ci ci racconta delle storie e degli aneddoti che io personalmente non avevo mai letto quindi grazie grazie castelli e grazie alla if edizioni che sto seguendo ovviamente ancora ultimo ma non per meno importanza come dicono gli inglesi last but not least passiamo ai saggi sul fumetto che ho apprezzato moltissimo ma ve ne faccio vedere solo uno perché magari so che questa è la parte più tediosa dei lettori di fumetti però è giusto dare anche importanza ai libri sul fumetto quindi dei saggi essendo anch'io amante dei saggi non solo sul fumetto ma anche di tanta altra altro genere è un saggio che è stato editato dalla t1 e con una copertina molto bella che è questo è il fumetto cinese copertina cartonata edizione molto curata molto ben fatta che è stato scritto da martina caschera o martina caschera non vedo l'accento quindi mi scuserà se sbaglio il cognome in ogni caso è grande grande libro perché mi ha fatto veramente scoprire un mondo ovvero il fumetto cinese che mi era pochissimo conosciuto tanto che appunto come i manga come i comics come fumetti come le historietas come le bande sinè anche il fumetto cinese ha un suo nome che manua o manua anche qui scusate il termine ma definisce appunto questo il genere e fumettistico cinese e manua e poi i vari sottonomi che identificano il fumettista o i vari lavoratori del settore del fumetto ovviamente non si parla solo di terminologie di etimologie si parla anche di storia del fumetto cinese di contemporaneità e anche di quei fumetti che in italia vengono tradotti appunto dal cinese molto spesso hanno avuto una casa in canicola edizioni che ne ha editato diverse opere quindi tra le cose belle che ho letto del fumetto cinese graphic novel in questo anno che non è di questo anno è del 2019 forse non vorrei sbagliare e che ho recensito anche sul magazine ubici fumetti c'è il soffio del vento tra i pini di zao dao bello 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 che dire questo era il mio best of 2023 spero di non essere stato lungo per questo ho diviso il video a capito di magari vi andate a vedere ciò che vi interessa e fatemi sapere la vostra top 3 se ce l'avete di qualsiasi fumetto genere che avete letto nei commenti parliamoci e chissà magari arriverà qualche altro video di questo 2023 con dei reso conti molto interessanti e molto curiosi sul canale e sui fumetti di cui vorrei parlarne con voi ciao a tutti ciao a tutte e al prossimo video con con me buon 2024